esercizi per lo stretching esercizio numero 1 esercizio di preparazione allo stretching ci permetterà di raggiungere la mobilizzazione delle anche il rilassamento del tratto lombare e l'attivazione addominale sdraiamoci a pancia in su inspiriamo e mentre espiriamo disegniamo 8 cerchi verso l'esterno e 8 verso l'interno manteniamo l'angolo retto facendo attenzione che il tallone resti lontano dal gluteo esercizio numero 2 per questo esercizio dovete dotarvi di un elastico da fitness o una banda elastica posizionate l'elastico sull'arco plantare distendete la gamba destra sul pavimento e piegate la gamba sinistra verso il petto inspirate e mentre espirate stendete la gamba verso il soffitto facendo attenzione che il gluteo non si sollevi dal pavimento ripetete per otto volte distendete completamente la gamba appoggiata a terra e slanciatela verso l'alto mantenendo la tensione dell'elastico piegate i gomiti mentre la gamba è tesa verso il soffitto per sentire maggiore trazione ripetete per otto volte fate passare l'elastico dalla parte esterna della gamba e fatelo ritornare verso l'interno piegate la gamba inspirando ed espirate mentre estendete ripetete quattro volte con la gamba piegata e quattro con la gamba tesa ripetete la sequenza invertendo gambe e braccia piegata e quattro con la gamba piegata e quattro con la gamba gu. ag piegata Grazie a tutti. Grazie a tutti.